Anne Catherine ricevette questa luce soprannaturale in età ancora più giovane. L. 8 settembre 1821, che ricorreva il 57esimo anniversario della sua nascita, raccontò a questo proposito quanto segue. Pochè sono nata l'8 settembre. Ho avuto oggi una meravigliosa intuizione circa la mia nascita e il mio battesimo. In questa occasione ho provato delle impressioni singolari. Mi sentivo come un bambino appena nato tra le braccia delle donne che mi portavano a Coesfeld per essere battezzato, ed ero confuso dall'impressione che avevo di essere allo stesso tempo così piccolo e così debole insieme così vecchio. Per tutto quello che avevo già sentito e sperimentato allora, da bambino appena nato, ho visto e saputo di nuovo, anche se miscolato alla mia attuale comprensione. Da quel momento in poi il mio angelo custode si mostrò visibilmente presente a me, come sempre fece in seguito. Mi guardai intorno, guardai il vecchio fienile in cui vivevamo e tante cose che poi non vidi, perché erano stati fatti molti cambiamenti. Mi sono sentito trasportato, e questo con piena consapevolezza, dal nostro cottage a Flamsche fino alla chiesa parrocchiale di San Giacomo a Coesfeld e sentivo tutto e mi guardavo intorno. Ho visto compiere su di me tutta la santa cerimonia del battesimo, e per questo i miei occhi e il mio cuore si sono aperti in modo meraviglioso. Quando sono stato battezzato, ho visto il mio angelo custode e le mie sante protettrici, Sant'Anna e Santa Caterina, presenti alla cerimonia. Ho visto la madre di Dio, con il bambino. Quattorgi. Gesù, al quale ero sposato e che mi ha regalato un anello. Tutto ciò che è santo, tutto ciò che è benedetto, tutto ciò che ha a che fare con la chiesa, lo sentivo già così intensamente come mi accade adesso. Ho visto ciò che la chiesa stessa si manifesta in immagini meravigliosamente significative. Ho sentito la presenza di Dio nel Santissimo Sacramento. Ho visto le ossa dei santi brillare nella chiesa e ho riconosciuto i santi che apparivano sopra di esse. Ho visto tutti i miei antenati, risalendo fino al primo di loro che era stato battezzato. Ho riconosciuto, in una lunga serie di dipinti simbolici, tutte le prove della mia vita futura. Quando fui ricondotto a casa dalla chiesa passando per il cimitero, ebbi una sensazione molto acuta per lo stato delle anime i cui corpi riposavano lì in attesa della risurrezione, e notai col rispetto alcuni corpi santi che brillavano di una chiarezza abbagliante. Da questa comunicazione risulta che Anna Caterina aveva già ricevuto nel grembo materno una disposizione naturale alla contemplazione, e ciò con una forza e una potenza così elevate. Che subito dopo la nascita la sua facoltà di vedere sia spirituale che corporea i sensi che servivano come suoi strumenti erano capaci di percezione e attività ben oltre la misura ordinaria. Tuttavia, la contemplazione come facoltà puramente naturale si esercita solo nell'ambito delle cose naturali, è legata alla contemplazione soprannaturale o profetica come punto di partenza o predisposizione, ma non come condizione necessaria. Perché questa intuizione superiore può essere concessa da Dio come una grazia gratuita ad un'anima che non ne ha una predisposizione naturale o che la possiede solo in piccolissima misura. L'ambito della contemplazione soprannaturale è il regno della grazia, ossia la Chiesa, alla quale l'uomo è incorporato mediante il santo battesimo. Ecco perché Anna Caterina riceve questa luce solo quando è divenuta, per l'infusione della grazia santificante. Membra viva del corpo di Dio. La Chiesa. Solo allora di suoi occhi e il suo cuore si aprono in modo meraviglioso di vede gli effetti del sacramento, della Chiesa con i suoi misteri e di tutto ciò che è in relazione viva con lei. Così ella vede risplendere nei sepolcri i corpi delle anime sante solo quando, dopo il battesimo, viene riportata attraverso il cimitero, di non li vede quando viene portata in Chiesa. Tuttavia, per quanto grande ed alta fosse la luce di contemplazione superiore riversata con la grazia battesimale nell'anima di Anna Caterina, essa fu abbassata alle capacità della bambina, e in modo adeguato ad una così tenera età. Ecco perché ella si comporta, in questa contemplazione, come farebbe un bambino della sua stessa età nei confronti della luce che percepisce naturalmente. Così, come un neonato, appena conosce la madre, cerca il suo seno e si calma tra le sue braccia. Quindi Tutto questo senza rendersene conto, per puro istinto naturale, e allo stesso modo Anna Caterina, subito dopo il battesimo, comprese e riconobbe la madre nel cui grembo aveva appena ricevuto una nuova nascita, ne ha avuto il sentimento dei benefici e di tutta la bellezza. Senza poter giudicare e accorgersi che esiste una conoscenza, in sé più meritoria, di questi misteri, quella che si trova alla luce della fede. L'intelligenza riflessiva dell'oggetto della contemplazione si muove poi di pari passo con lo sviluppo naturale della coscienza in generale. Come vediamo in un'altra comunicazione di Anna Caterina, non mi avevo circa quattro anni, ha detto, quando i miei genitori mi portarono in chiesa. Ricordo che credevo fermamente che li avrei trovato Dio e uomini ben diversi da quelli che conoscevo, molto più belli e più brillanti. Quando sono entrato ho guardato ovunque e niente era come avevo immaginato. Il prete era all'altare, pensavo che potesse essere Dio, ma cercavo dovunque la Santa Vergine Maria, immaginavo che gli bisogna avere tutto sotto di sé, perché era il mio più grande piacere, ma non trovavo ciò che credevo. Due anni dopo, mi vennero di nuovo idee dello stesso genere e continuai a guardare due ragazze di una certa età, che indossavano mantelli e che avevano un'aria modesta e riservata, pensavo che potesse essere quello che stavo cercando, ma non era ancora quello. Ho sempre creduto che Maria dovesse avere un mantello azzurro, un velo bianco e un semplice vestito bianco. Avevo avuto una visione del paradiso, e cercavo in chiesa Adamo ed Eva, belli come erano prima della caduta, e dicevo tra me, quando vi sarete confessati, li troverete. Io mi sono confessato, ma non l'ho fatto. Non trovarle. Finalmente vidi in chiesa una pia famiglia nobile, le ragazze erano vestite di bianco, pensavo che avessero qualcosa di quello che cercavo e mi ispiravano un grande rispetto che non avevo sempre avuto avevo l'impressione che tutto quello che vedevo fosse molto brutto e molto sporco. Ero costantemente assorto in pensieri di questo tipo, e mi dimenticavo di berlo e di mangiarlo, tanto che spesso sentivo i miei genitori dire, che c'è di male. «Bambino? Cosa sta succedendo alla piccola Anne Catherine? Pensavo che avessero qualcosa di quello che cercavo e mi ispiravano grande rispetto, ma non era ancora quello. Ho sempre avuto l'impressione che tutto quello che vedevo fosse molto brutto e molto sporco. Ero costantemente assorto in pensieri di questo genere, e mi dimenticavo di mangiare e di bere, tanto che spesso sentivo i miei genitori dire, che cosa ha questa bambina? Cosa sta succedendo alla piccola Anne Catherine? Pensavo che avessero qualcosa di quello che cercavo e mi ispiravano grande rispetto, ma non era ancora quello. Ho sempre avuto l'impressione che tutto quello che vedevo fosse molto seggi brutto e molto sporco. Ero costantemente assorto in pensieri di questo genere, e mi dimenticavo di mangiare e di bere, tanto che spesso sentivo i miei genitori dire, che cosa ha questa bambina? Cosa sta succedendo alla piccola Anne Catherine? Da quanto appena riportato, il lettore potrà facilmente riconoscere che Anne Catherine, fin dalla prima infanzia, aveva visto l'incomparabile bellezza dell'innocenza del paradiso. Ma che non poteva rendersi conto della differenza di ciò che attualmente lo circondava con l'oggetto del suo desiderio? Contemplazioni, solo successivamente e nella misura della sua esperienza infantile. Dire anche un'altra volta, prima di sapere cosa significasse la parola profeta, avevo già avuto visioni di un carro meraviglioso, sulle cui ruote stavano i quattro animali dell'Apocalisse. Perché questo? Non lo so, non lo so. Ho avuto delle visioni così presto che ricordo che una volta mio padre mi prese piccolissimo in ginocchio, accanto al fuoco, e che mi disse, sei nella mia cameretta, dimmi una cosa. E allora gli raccontai ogni genere di storie della Bibbia, e po' che non aveva visto niente di simile o non aveva visto niente del genere, cominciò a piangere. Le sue lacrime caddero su di me e disse, bambino, dove sei capito tutto questo? Allora gli ho risposto che avevo visto tutte queste cose, dopo di che ha fatto silenzio e non mi ha detto più niente. Nel suo quinto anno, quello che accade a Santa Ildegarda accade ad Anna Caterina, con la contemplazione arrivò una comprensione più profonda di ciò che vedeva. E potè rendersi conto più precisamente del contenuto delle sue visioni e distinguerle dagli atti di fede così come dalla certezza e dal merito ad essi connessi. Ecco cosa ha detto al riguardo, nel quinto o sesto anno, mentre meditavo il primo articolo del credo cattolico, credo in Dio, Padre Onnipotente, che ha fatto il cielo e la terra, immagini della creazione del cielo e la terra passò davanti alla mia anima. Ho visto la caduta degli angeli, la creazione della terra e del paradiso, quella di Adamo ed Eva e la caduta originale. Immaginavo che questo lo vedessero tutti, così come gli altri oggetti intorno a noi, e ne ho parlato con tutta semplicità ai miei genitori, ai miei fratelli e sorelle e ai miei compagni. Ma ho notato che la gente rideva di me e mi chiedeva se avevo un libro dove si trovava tutto questo. Allora cominciai a prendere l'abitudine di tacere su queste cose, pensavo che non fosse opportuno parlarne, senza però formarmi delle idee precise sull'argomento. Avevo queste visioni non solo di notte, ma anche in pieno giorno, nei campi, in casa, mentre camminavo, mentre lavoravo, mentre svolgevo occupazioni di ogni genere. Siccome una volta a scuola dissi in modo del tutto ingenuo, riguardo alla risurrezione, cose. 17. Diverse da quelle che ci erano state insegnate, e questo con sicurezza, credendo nella mia semplicità che tutti lo dovessero sapere come me, e non sospettando affatto che ci fosse una facoltà lì che era personale per me, gli altri bambini, tutti sorpresi. Mi prendevano in giro e si lamentavano con l'insegnante, che mi liberava severamente dall'indulgere in tali immaginazioni. Ma continuavo ad avere queste visioni senza dire nulla al riguardo, come un bambino che guarda le immagini e le realizza a modo suo senza chiedersi veramente cosa significhi questo o quello. Come ho visto spesso nelle immagini dei santi o nelle figure di storia della Bibbia gli stessi oggetti rappresentati a volte in un modo, a volte in un altro, senza che questo avesse mai portato alcuna alterazione nella mia fede. Pensavo che le visioni che avevo fossero le immagini dei miei libri e le contemplavo in pace, pensando sempre che tutto era per la maggior gloria di Dio. In materia di religione, non ho mai creduto ad altro che a ciò che il Signore ci ha rivelato e proposto di credere dalla Chiesa Cattolica, sia espressamente scritto che non. E non ho mai creduto allo stesso modo che vidi in visione guardai queste cose così come guardavo con devozione i diversi presepi natalizi, esposti in vari luoghi, punto senza disturbarmi che non tutti siano stati realizzati sullo stesso modello. In entrambi ho adorato soltanto lo stesso caro bambino Gesù, e per me è stato lo stesso riguardo a questi dipinti della creazione del cielo e della terra e della creazione dell'uomo, gliela ho adorato Dio Signore, l'onnipotente creatore del cielo e della terra. Quart'anni Catherine non diede mai spiegazioni dettagliate sulla luce soprannaturale nella quale e attraverso la quale percepiva le sue visioni, gli si limitò a dire una volta. Mi è stato spiegato in modo molto bello che vedere con gli occhi non è vedere, e che esiste un'altra visione interiore, ma ora quella mia uscita dalla memoria possiamo dunque ricorrere alle rivelazioni di Santa Ildegarda sullo stesso argomento, per trovare la spiegazione desiderata. Questo è ciò che dice, è difficile per l'uomo carnale comprendere come vengono percepite le visioni. Dalla mia infanzia fino all'età attuale di 70 anni, non ho cessato di vedere nella mia anima la luce che Dio mi ha dato, ma non lo percepisco con gli occhi del corpo, né attraverso i pensieri del mio cuore, né attraverso i cinque sensi. Tuttavia neanche gli occhi del corpo perdono la loro facoltà visiva, mentre gli altri percepiscono la loro attività perché la luce che possiedo non è circoscritta nello spazio, né nella materia, ma è più brillante di quella dell'astro diurno, non vedo in essa né profondità, né 18. Lunghezza, né larghezza, mi viene detto che si chiama ombra di la luce viva e come nell'acqua si riflettono il sole, la luna e le stelle, così è ciò che è scritto, ciò che viene detto, in essa mi diventano visibili le qualità e le opere degli uomini intuizione, la conservo a lungo? E vedo, percepisco, so tutto in una volta, come in un batter d'occhio, ciò che devo sapere e imparare. Ma ciò che non contemplo, non lo so nemmeno io, poiché sono come uno che non ha mai ricevuto un insegnamento, e perciò che devo scrivere da questa luce, non uso altre parole se non quelle che ascolto. Ma queste parole non le sento come quelle che fanno suono uscendo dalla bocca di un uomo, le vedo come una fiamma, come una nuvola luminosa, nell'ettere puro. Non riesco a distinguere una forma in questa luce più di quanto posso fissare fissamente il disco del sole. Oltre a questa, in questa luce, a volte ne vedo un'altra, che mi dicono si chiami luce viva. Tuttavia, non la vedo così spesso, e posso esprimere la sua essenza anche meno di quella della prima luce viva. Ma quando lo percepisco, allora ogni tristezza e ogni dolore sensibile scompaiono per me, così che sono come un bambino naif, e non come una vecchia. La mia anima non è mai privata della prima luce, dell'ombra della luce viva, e talvolta la vedo come attraverso una nuvola trasparente guardo il firmamento senza stelle, e che contemplo in lui ciò che dico sullo splendore della luce viva. La luce di cui parla Santa Hildegarda è, secondo la dottrina della scuola, l'irradiazione della luce divina che passa, per l'intermediazione di un angelo, nell'anima del contemplativo. Mediante questa luce tutte le forze dell'anima vengono elevate al di sopra della loro potenza naturale, tanto che l'uomo è così reso capace di vedere come puro spirito incorporeo, cioè indipendente dall'azione dei sensi e degli altri organi. Ciò che Dio vuole comunicargli in questa luce. Questa luce dà quindi all'anima una doppia facoltà, la facoltà della visione soprannaturale e l'ambiente in cui questa può esercitarsi. Sta a questa facoltà ciò che la luce del sole sta agli occhi del corpo, ovvero alla facoltà naturale di conoscere la luce interiore innata in ogni uomo. In questa luce per il contemplativo, dice Santa Ildegarda, si riflette tutto, cioè tutto ciò che Dio vuole fargli conoscere, perché la scelta degli oggetti contemplati non dipende dalla volontà di chi contempla, ma da Dio. Li determina essa stessa, secondo il compito particolare imposto all'anima favorita da una grazia di tale natura. È dunque in virtù di una disposizione divina che quest'anima vede e conosce il futuro o il passato, le cose nascoste o lontane, i misteri dell'ordine naturale o soprannaturale, i pensieri degli uomini e di certi uomini determinati. Così anche il grado di dalla misura della luce data da Dio dipendono la chiarezza dell'intuizione e l'accuratezza con cui ciò. 19. Che si vede viene conservato nella memoria e comunicato agli altri. Pertanto, quanto maggiore è la quantità di luce emessa, tanto più estesa è la sfera dell'intuizione. Se lì si vedono oggetti situati a grande distanza nello spazio, acquisisce la chiaroveggenza, che, come grazia soprannaturale, non deve essere confusa con la chiaroveggenza naturale o il sonnambulismo. Attraverso di esso gli oggetti stessi vengono visti, sia con la pura vista a distanza, sia attraverso il contemplativo trasportato nel luogo stesso in cui si trovano gli oggetti, dove l'evento sta accadendo o è accaduto. Ma quando si tratta di vedere nel passato o nel futuro, le immagini di ciò che non esiste più o non esiste ancora nello spazio e nel tempo vengono presentate da Dio in modo soprannaturale all'immaginazione del contemplativo. Quando, ad esempio, viene mostrato ad Anna Caterina un avvenimento dell'Antico o del Nuovo Testamento, le immagini degli individui che agiscono, quella dei luoghi e di tutte le circostanze le si presentano nella luce infusa con la stessa fedeltà e completezza con cui in uno specchio vissi che per certi aspetti restano impressi nell'immaginazione e nella memoria, con la stessa naturalezza. Come se raggiungessero il chiaroveggente mediante i sensi esterni e la facoltà della visione naturale, o se Anna Caterin fosse stata presente personalmente e fosse apparsa come coeva all'evento stesso. L'unica differenza consiste nel grado infinitamente più alto di acutezza e di chiarezza che trova posto nell'intuizione, perché vede non solo il fatto materiale, ma anche i motivi interiori e la loro sequenza, nonché le disposizioni più segrete e i sentimenti intimi dell'anima. Personaggi in azione La chiaroveggenza o il rapimento possono coincidere con questa intuizione delle immagini nella luce infusa, perché Anna Caterina vede gli avvenimenti della vita di Gesù nel luogo preciso in cui sono realmente accaduti nel passato. Ovvero a Gerusalemme o in altri luoghi della Terra Santa. Ella si diletta in questi luoghi e, giunta lì, vede gli avvenimenti e le azioni in immagini che si susseguono con la massima fedeltà all'ordine storico, come possiamo giudicare dal seguente esempio, al quale potremmo giungere infiniti altri. Ecco cosa racconta il 10 dicembre 1819. Questa notte ho percorso in più direzioni la Terra promessa, quale era il tempo del Salvatore. Le mie ordinarie stazioni di avvento mi hanno condotto innanzitutto all'incontro con la Santa Famiglia, in un cammino fino a Betlemme ho poi seguito diverse strade a me conosciute, andando da una parte all'altra del paese. E ho visto diverse scene della vita di predicazione di Nostro Signore, che in parte avevo visto prima, tra l'altro. Un'istruzione e una distribuzione del pane, di cui ricordo solo alcuni particolari. Sul pendio di una collina sedevano molte persone sotto alberi. 20 Altissimi e molto sottili che avevano la loro corona di foglie che proprio in cima stava il Signore Gesù davanti a loro, su un terreno rialzato, tra gli alberi scendevano mormoranti arbusti con vacche rosse e gialle, simili a more d'acqua. Lì c'era un prato fine e morbido come seta, sotto il quale il terreno era coperto come un folto muschio. Presi l'erba e la toccai, altri oggetti mi sfuggirono dalle mani, come se fossero immagini di cose passate. Ma quanto all'erba io? L'ho toccato. Cosa può essere? Santa Hildegarda dice di questa luce che è incircoscritta, immateriale e inaccessibile alle nostre facoltà puramente naturali, perché in virtù della sua essenza, toglie al veggente ogni limite di tempo e di spazio. E libera il suo pensiero e la sua intelligenza da tutti gli ostacoli cui sono soggetti nello stato ordinario. Il futuro più remoto o il passato più lontano sono presenti in lei, e le verità più profonde, i misteri più nascosti dell'ordine naturale o soprannaturale possono essere abbracciati con un solo sguardo, fino alle loro fondamenta. L'attività dei sensi e i rapporti con il mondo esterno, di cui sono gli strumenti, non sono necessariamente sospesi per chi contempla all'ombra della luce viva finché l'anima non vede Dio nella verità in sé, finché le sue visioni hanno creato le cose come suo oggetto. La luce naturale non è un ostacolo alla luce soprannaturale, e per questo non è necessario che il contemplativo sia completamente astratto da ogni attività sensibile. Solo ciò avviene nella chiarezza della luce soprannaturale e il mondo sensibile appare come un sogno, e la luce che gli è propria come una notte oscura. Anne Catherine chiarisce in modo sorprendente quanto appena detto quando descrive così la sua vita visionaria, durante il mio lavoro vuole parlare del lavoro di cucito per i poveri e gli ammalati di cui si prendeva cura notte e giorno con la massima zelo. Quando le sue sofferenze lo permettevano, durante il mio lavoro, ho visioni così continue, che vedo il filo delle forbici correre come in sogno e che a volte mi sembra di tagliare proprio in mezzo ad oggetti i cui sono circondato dalla visione. Ciò che realmente mi circonda è per me come un sogno, tutto è così nebuloso, così opaco e così sconnesso che è come un sogno in forme dal cui centro guardo un mondo luminoso, tutto permeato chiarezza. Dove le cose buone e sante si rallegrano più profondamente perché vediamo come vengono da Dio e vanno a Dio, e dove le cose cattive ed empie si addolorano più profondamente perché riconosciamo la via per la quale vanno di demone in demone, contro Dio e i suoi creatura. Questa vita in cui nulla si frappone, dove non c'è tempo, né spazio, niente di materiale, niente di nascosto, Questa vita dove tutto parla e tutto risplende, appare così perfetta e così. 21. Libera che la realtà cieca, zoppa e balbettante sembra un sogno vano. Così, per esempio, vedo sempre le reliquie brillare vicino a me, e spesso vedo schiere di piccole figure umane in bilico sopra queste reliquie nella lontananza delle nuvole, ma quando riprendo i sensi, vedo riapparire le forme dei santuari e i luoghi dove ripossano queste ossa luminose. Riguardo all'alone delle reliquie, così si espresse in un'altra occasione, Non posso descrivere quello che sento, non solo vedo, sento una luce, a volte più brillante, a volte più pallida. Questa luce sembra muoversi verso di me, poiché la fiamma segue la direzione della corrente d'aria. Ma sento ancora il collegamento di questo raggio con tutto un corpo luminoso e di questo corpo con un mondo di luce che trae la sua sorgente da un'altra luce, ma chi può esprimere queste cose? Questo raggio mi delizia, non posso fare a meno di premerlo contro il mio cuore, portava sempre involontariamente al cuore i frammenti delle reliquie che le venivano presentati, allora è come se entrassi, attraverso questo raggio, nel corpo a cui appartiene. Nelle scene della sua vita e nei suoi stati di lotta, di sofferenza o di trionfo. Perché nella visione seguo la direzione che Dio si compiace di darmi. Ci sono relazioni intime e meravigliose tra il nostro corpo e la nostra anima. L'anima santifica e profana il corpo, altrimenti attraverso il corpo non si potrebbe compiere nessuna espiazione, nessuna penitenza. Come i santi durante la loro vita aggirano attraverso il loro corpo, così agiscono separatamente da esso, e ancora da lui sui credenti, di ma la fede è la condizione che sola rende capaci di sentirne il santo influsso. Come Anna Caterina erbe delle visioni e riconobbe le reliquie nello stato naturale di veglia, così vide in tutta la chiesa la celebrazione ininterrotta del santo sacrificio della messa. Un giorno il pellegrino entrò nella sua stanza mentre veniva suonata la Santa Messa, pregò in profonda meditazione, e poi gli disse, Ho visto in quel momento la scena del Venerdì Santo, il Signore che si offre vittima sulla croce. Con Maria e il discepolo ai piedi della croce, sull'altare dove il prete celebrava la messa, vedo questo ad ogni ora del giorno e della notte, vedo tutta la parrocchia, come pregano, bene o male, vedo anche come il prete adempie la sua funzione qui. Poi le chiese e le parrocchie in il territorio circostante, quasi come si vede un albero vicino carico di frutti e illuminato dal sole, poi altri gruppi di alberi in lontananza o un intero bosco vedo celebrare la messa in tutto il mondo, a tutte le ore del giorno. Anch'io vedo paesi lontani dove ancora si celebra come ai tempi degli Apostoli vedo, sopra l'altare, una liturgia celeste e gli angeli compensano tutto ciò per cui offro in sacrificio anche il mio cuore l'indevozione dell'Assemblea e imploro il Signore che 22 abbia pietà. Vedo tanti sacerdoti celebrare in modo deplorevole. coloro che sono rigidi e inamidati, che si sforzano soprattutto di stare bene all'esterno, sono generalmente i peggiori, perché questa preoccupazione spesso fa trascurare ogni devozione interiore. Si dicono sempre che effetto avrò sulla gente e non pensano a Dio. Ho avuto questa impressione fin dalla mia giovinezza. Quando il pellegrino entrò, stavo contemplando la Santa Messa, continuo a vederlo e parlo come si fa quando, senza smettere di lavorare, si risponde a un bambino che fa una domanda. Durante il giorno a volte vedo da lontano questa sacra cerimonia. Gesù ci ama tanto che continua eternamente la sua opera di redenzione nel santo sacrificio dell'altare, e la Santa Messa è redenzione storica, coperta da un velo e divenuta sacramento. Ogni operazione di Dio è eterna, ma nel suo rapporto con la nostra vita temporale che è successiva, è una promessa prima di entrare in questa successione, e quando è passata nel tempo finito, vi appare sotto forma di mistero e continua come questo. Tutto questo lo vedevo già dalla mia prima giovinezza e credevo che tutti lo vedessero allo stesso modo. La comunicazione che segue ci fornisce chiarimenti ancora più precisi sul modo in cui Anne Catherine, durante questa doppia visione, rimase in contatto con le persone che la circondavano. Ecco cosa disse una volta nell'ottobre 1819, per due o tre giorni sono stata continuamente tra la vista sensitiva e ciò che è al di sopra dei sensi. Devo continuamente fare violenza a me stessa, perché conversando con coloro che mi si avvicinano, io all'improvviso vedo davanti a me cose completamente diverse e scene completamente diverse. Allora le mie stesse parole hanno l'effetto della voce di un'altra persona che si sentirebbe, sorda e malarticolata nel fondo di un barile vuoto. È anche come se fossi ubriaco e sul punto di farlo autunno, tuttavia la mia conversazione procede tranquilla, e spesso è più animata del solito, senza che io sappia cosa ho detto, eppure i miei discorsi sono ben seguiti. È una grande fatica per me stare così in due stati allo stesso tempo gli oggetti presenti che vedo con gli occhi mi appaiono confusamente, sono verso di loro come una persona addormentata a cui arriva un sogno, l'altra vista mi attira imperiosamente. È più lucida della vista naturale. E non è attraverso gli occhi che si produce. Quinta Santa Ildegarda diceva di non conoscere nulla se non ciò che contemplava e ciò che imparava nella contemplazione. Allo stesso modo Anna Caterina indica le sue visioni come la fonte esclusiva di ciò che sa e di tutto il suo sapere. Al settimo anno, dopo 23 Aver frequentato la scuola per appena quattro mesi, fu licenziata perché il maestro dichiarò di non avere nulla da insegnarle poché sapeva in anticipo tutto quello che aveva da dire prima di lasciargli la lezione. Questo fatto merita un'attenzione particolare, perché il processo puramente intuitivo di Anna Caterin, in tutti i momenti della sua vita e in tutte le situazioni in cui si è trovata, le ha reso quasi impossibile ogni riflessione retroattiva. Perché la rendeva superflua e in generale ogni discorsiva funzionamento della mente, questo rendeva spesso difficile, come risulterà più chiaro in seguito, la completa comunicazione delle sue visioni al pellegrino. Nel suo diario del 1819, il pellegrino registra, l'8 maggio, un'osservazione che trova qui il suo posto, mi ha detto, scrive, che non è mai riuscita a ricavare nulla dai libri che ha non ha mai trattenuto nulla della Sacra Scrittura, ma possiede la vita del Salvatore così perfettamente. in virtù della grazia della contemplazione, che spesso non posso fare a meno di tremare pensando ai rapporti così intimi e così familiari in cui vivo con i più meravigliosa, la creatura più prediletta di cui forse qualcuno abbia mai parlato. Un'altra volta raccontò al pellegrino, non ho mai memorizzato nulla dei Vangeli né della Bibbia. Antico Testamento, perché ho visto tutto io stessa nel corso della mia vita. Ho rivisto ogni anno le stesse cose, esattamente nello stesso modo e con le stesse circostanze anche se spesso con la giunta di altre scene. Spesso mi trovavo nello stesso posto con gli ascoltatori e assistevo all'evento come se ne prendessi parte, tuttavia non rimanevo ogni volta nello stesso posto. Il più delle volte ero sopra il palco e lo vedevo sotto di me. C'erano altre cose, soprattutto il lato misterioso, che vedevo dentro e nella mia coscienza, mentre certi dettagli mi apparivano nelle immagini fuori scena. In tutti i casi avevo la capacità di vedere attraverso tutte le cose, così che nessun corpo potesse nascondere l'altro, altrimenti ci sarebbe stata confusione. Anche in età più avanzata, Anne Catherine non riusciva a familiarizzarsi con i libri. In convento, racconta, a volte avrei voluto cercare nei libri, ma era sempre una miseria per me. Grazie a Dio non facevo quasi nulla. Leggo e quando vedo un libro, mi sembra di conoscerlo a memoria e quest'ultima osservazione vale soprattutto per i libri ascetici o per la vita dei Santi, e ne dà il motivo in questa osservazione singolarmente sorprendente sulla vita del Santo Francesco Saverio di Padre Croisè. Non c'è santo commovente di cui io abbia visto tante cose, credo di aver visto tutta la sua vita. Questo resoconto che ne fa mi si presenta come quelle etichette che appendiamo qui e là dai fili su un pezzo di giardino seminato, per sapere quale seme «È stato piantato in questo o quel posto, ma tutto il pezzo sembra ancora terra dove». 24 «Non è cresciuto nulla, tuttavia, mi aiuta a ricordare il giardino tutto coperto di fiori che io sega. Tuttavia non conosceva solo le cose soprannaturali e i misteri della fede attraverso le visioni, ma veniva istruita anche nelle questioni della vita comuni in modo analogo alla sua contemplazione. Ne parla in modo toccante in una comunicazione relativa al periodo della sua infanzia. «Quanto Dio è sempre stato buono con me!» Potevo fare tutto. Lavorava con me quando ero bambina. Lo ricordo all'età di sei facevo già quello che faccio adesso, che a 55 anni, mio fratello minore non era ancora nato, mi badavo alle mucche e sapevo che mi sarebbe nato un fratello come lo sapevo. Volevo fare qualcosa per mia mamma che potesse essere utile alla bambina eppure non sapevo ancora cucire. Avevo portato con me i vestiti della mia bambola e il giovane, il suo angelo custode, è venuto da me. Mi ha dato lezioni e mi ha aiutato a realizzare un cappello da bambino molto carino e altri piccoli oggetti con i vestiti della mia bambola, che ho regalato a mia madre e lei è rimasta molto sorpresa che fossi riuscita a farcela. Lei comunque li ha presi e li ha usati. Ho visto lei che piangeva di nascosto e mostrava tutto questo a mio padre e ad altre persone. Mi ha nascosto la sua sorpresa. In quel periodo con il giovanotto facevo anche le calze per i bambini poveri. Dicembre 1819 Sesta Santa Ildegarda distingueva una doppia luce, l'ombra della luce viva e la luce viva stessa. Quest'ultima, aggiunge, le veniva comunicata molto più raramente. Alla prima dà il nome di ombra perché questa, meno sottile e più consona alla natura umana, è con l'altra, che è infinitamente più vivida e più penetrante lo stesso rapporto dell'ombra con la luminosità del sole. Inoltre, appena riceve la luce viva, viene portata fuori dall'ambito della sua vita ordinaria e si ritrova con la serenità e la libertà di spirito di una bambina alla quale sono del tutto estrane tutte le necessità e le miserie di questo mondo inferiore. Sia che in questo alto grado di estasi sia privata dell'uso dei sensi e tutta assorta in Dio, sia che in questa luce superiore contempli misteri che chiudono i suoi sensi al mondo esterno e la riempiono di meravigliosa consolazione e gioia. Così che possa ritornare così rafforzata alle fatiche della vita terrena. Qualcosa di simile si riscontra nella vita di Anne e Catherine. Citeremo solo un esempio tra mille per chiarire quanto appena detto. La vigilia di Natale del 1819 vide celebrare questa santa festa nella Chiesa Trionfante e le fu concesso di partecipare alla sua gioia. Il suo giubilo era allora così grande che il 25 Pellegrino, dominato dal sentimento della sua miseria e di tutti i peccatori, non poteva fare a meno di piangere, per lei irradiava gioia e il suo spirito. La sua lingua e il suo volto erano vivificati da una gioia impossibile da descrivere. C'era una tale profondità nel suo linguaggio, una tale facilità nell'esprimere le cose più sublimi e misteriose, che il Pellegrino si commuoveva nel profondo della sua anima e non riesce a riprodurre brillantemente ciò che è suo parole colorate, anzi infiammate. Fate brillare nel cuore delle tenebre di questa vita. A questa categoria appartengono generalmente tutte le visioni che mettono Anna Caterina in relazione con la Chiesa Trionfante nelle feste alle quali le veniva dato di partecipare secondo l'ordine dell'anno ecclesiastico, come già era accaduto al Beato Lidua in Dischiedam, con cui ha così tanta somiglianza. In queste occasioni era così piena di gioia che prorompeva incanti di giubilo per celebrare le lodi di Dio con i cori dei Beati. Fu anche nella luce viva che contemplò queste altre visioni dove il suo divino fidanzato venne in persona a consolarla del suo indicibile dolore e dove ricevette la forza necessaria per affrontare nuove sofferenze. Santa Hildegarda dice che la sua anima non fu mai privata dell'ombra della luce viva, e questo si addice perfettamente anche ad Anna Caterina. Anche lei infatti non ne fu mai privata fin dalla prima infanzia e visse più nelle sue visioni solo nei rapporti con le persone sensibili. Mondo. Essendo ancora in convento. Giorno e notte, per mesi interi, ebbe visioni in cui svolgeva opere simboliche nella preghiera, che non le impedivano di impegnarsi contemporaneamente in lavori di ogni genere, sia in casa che in chiesa. Solo attraverso questo però non ricevette la comprensione completa di tutto ciò che vedeva in questa luce, come Santa Hildegarda, aveva ancora bisogno della luce viva per comprendere ciò che aveva visto e penetrarne il significato. Anne Catherine, infatti, si è comportata verso tutte le sue visioni in maniera puramente passiva, ha accolto la visione con candore e come una persona che dapprima non sa positivamente cosa le viene mostrato, né cosa dovrà seguire. Ha ingenuamente espresso la sua ammirazione o sorpresa, spesso chiedeva anche con insistenza che le fosse risparmiata questa o quella rappresentazione. Che me ne faccio, piccola, diceva. Lei poi riceve l'intelligenza attraverso la luce viva, che esprime più o meno in questi termini a il mio fidanzato tutto questo mi è stato chiaro, distinto e intelligibile, più chiaro della luce del giorno. Allora mi sembrava che un bambino potesse capire tutto questo. E ora non posso più raccontare nulla di ciò che la lingua non può trasmettere. Come puoi esprimere con la lingua ciò che vedi se non con gli occhi? 26. Sette alla grazia delle visioni si univano, per Anna Caterina, sofferenze e supplizi nel corpo e nell'anima, la cui grandezza fa tremare la natura umana, anche quando a sopportarle coraggiosamente per lunghi anni la pazienza riceve aiuti che la elevano al più alto grado di eroismo. Da qui le suppliche che tante volte rivolgeva a Dio perché le risparmiasse questo o quello spettacolo, da qui le sue lamentele espresse in questi termini. Ehmè! Perché devo vedere tutte queste cose? Che bene mi può fare se noi sapeva quali orribili sofferenze dovevo sopportare per poter raccontare tutto questo. Queste sofferenze avevano la loro fonte nella sua profonda conoscenza della santità di Dio e della miseria del mondo, così come lo ha reso il peccato, e siccome a lei, bambina pura e innocente, venivano mostrati tutti gli abomini e tutte le miserie dell'umanità peccatrice. Affinché si impegnasse a fare penitenza per queste innumerevoli offese, spesso credeva di non poter resistere al dolore di questo spettacolo. Ecco, ad esempio, ciò che disse il 13 dicembre 1819, tutta questa notte, ho dovuto lottare instancabilmente, e sono ancora completamente esausta per gli sforzi che ho fatto per sfuggire alle deplorevoli visioni che mi sono capitate. Il mio conduttore mi condusse per tutta la terra, passando continuamente per grandi caverne fatte di tenebre, dove vidi vagare una folla innumerevole di uomini dediti alle opere della notte. Spesso, quando la mia tristezza era tale che non potevo più sopportarla, la mia guida mi conduceva per qualche istante alla luce, poi dovevo ritornare nelle tenebre e rivedere tutte le forme dell'impietà. Spesso mi svegliavo, dal sonno istatico, per l'angoscia e il terrore, ho visto la luna splendere pacificamente alla finestra, e ho pregato Dio con gemiti di non farmi vedere queste immagini orribili ma dovevo scendere di nuovo in questa terribile oscurità e vedere le abominazioni. Eccetera. Il 19 luglio 1820, lo stato in cui si trovava allora la Chiesa di Spagna e le persecuzioni che più tardi si sarebbero abbattute su di essa, furono mostrati ad Anna Caterina in una grande visione. Ne fu così profondamente addolorata che questo pensiero suscitò in lei, perché devo vedere tutto questo, io, povero peccatore, non posso dirlo e ci sono così tante cose che non capisco. Poi ricevete questa risposta dalla sua guida, tu chiedi perché tutto questo, non puoi sapere quante anime un giorno leggeranno questo e saranno così consolate, ravvivate ed emozionate al bene. Sono molte le storie di grazie simili concesse ad altri, ma la maggior parte delle volte non vengono fatte come dovrebbero, poi le cose antiche divennero estranee agli uomini di questo tempo, e furono screditati da... 27 Accuse avventate, ciò che si può raccontare è sufficientemente comprensibile, e può produrre molto bene che non si può apprezzare. Queste parole mi hanno consolato. 8 Da quanto citato, il lettore può facilmente intuire quanti oggetti comprendessero le visioni di Anne Caterin. Goerre's padre, che aveva letto gli appunti del pellegrino e che sapeva apprezzare, come tutti i suoi contemporanei, lo spirito che ispirava il servo di Dio, si esprime così nel secondo volume della sua Mystique, P. 348. Le sue visioni non si limitarono alla passione, ma... Per tre anni, seguirono passo passo il Signore in tutti i suoi viaggi attraverso la Palestina. La natura del paese, dei fiumi, delle montagne, delle foreste, dei luoghi abitati, gli usi e costumi, il costume e il modo di vivere, tutto passa davanti ai suoi occhi nel modo più chiaro e distinto. Ai personaggi, alle località, alle immagini dell'anno ecclesiastico che servono di intermezzi, le scene sono episodi che legati che uno sguardo gettato indietro cercherà in un passato ancora più remoto. Così che la sua visione abbraccia tutto questo passato risalendo all'origine delle cose. Tutto questo si riassume in una potente epopea religiosa che, giocando tra il cielo e la terra, si divide con le ere del mondo e si suddivide con le generazioni umane. È come un oceano, che emerge da una sorgente nascosta per circondare con le sue onde la terra, e mentre la sua superficie riflette la magnificenza delle sue rive e le ricchezze accumulate nel corso dei secoli, essa tuttavia rimane trasparente fino in fondo. Sì che l'occhio scopre nel suo profondo un mondo di meraviglie e vi coglie in essi intimi e nascosti delle cose, vi possiamo vedere anche la parte più mirabile, la più ricca, la più vasta. Lo spettacolo più profondo e più sorprendente che sia mai stato prodotto prima del senso contemplativo, anche in questo modo di intendere mistico. Ma affinché il lettore possa arrivare ad una visione più chiara ed entrare più nel dettaglio di ciò che abbracciano le visioni di Anne e Catherine, cercheremo, in quanto segue, di dargli una chiave che possa aprirgli l'ingresso in questo meraviglioso circolo. Come già accennato sopra, le prime visioni della sua giovinezza appartengono per la maggior parte all'Antico Testamento, in seguito ebbe visioni della vita del Salvatore, da prima rare, poi sempre più frequenti. Ella vedeva l'intero Antico Testamento nel suo significato figurato ed eterno, cioè nell'intimo legame che lo collega in ogni punto al mistero della Santissima Incarnazione e a quello della Redenzione. Ella vedeva questo rapporto come qualcosa di vivo che attraversava il corso dei secoli, attraverso una serie di epoche e di generazioni determinate da Dio. Ella vide i personaggi che, in quest'ordine disposto da Dio, erano da lui chiamati a 28. Portare avanti da parte loro la pienezza del tempo, tutta la loro storia e tutte le loro azioni fin nei più piccoli dettagli. Ella conosceva la posizione e il significato particolare che ciascuno di essi aveva nell'ordine della salvezza in rapporto al proprio tempo e in rapporto allo stesso Salvatore. Vide tutte le grazie che Dio aveva concesso loro, come Dio le aveva indirizzate e come i frutti di benedizione prodotti dall'azione da loro esercitata si erano perpetuati di generazione in generazione. Vide inoltre il funzionamento dell'inferno, le forme infinitamente varie e le influenze diaboliche dell'idolatria. Vide tutti i disordini provocati dal potere del nemico, tutti gli attacchi con cui minacciava il regno di Satana. Dall'inizio, l'economia della salvezza. Vedeva tutte queste immagini in un rapporto continuo con il presente. Così, alla visione sul bastone di Eliseo, era legato per lei il significato del bastone pastorale dei Vescovi, causa della sua potenza interiore e della sua dignità, e il rapporto di tutte queste cose con colui che dona a tutti la loro missione. Ecco la fede che dà efficacia ad ogni potere da lui conferito. Nulla dunque che non trovi posto nell'ambito delle visioni di questa umile e ingenua bambina, come come si svelano davanti ai suoi occhi i misteri più profondi della grazia. Così anche una miriade di dettagli che sembrano appartenere più al quadro della sacra la storia l'è visibile. Così, ad esempio, mentre vede il corpo di Adamo nella sua gloria prima della caduta e le conseguenze umilianti che la caduta porta per lui nel suo misterioso rapporto con le cinque piaghe del corpo di Cristo. Nei cui meriti infiniti vede la restituzione dei cinque effluvi di luce che Adamo aveva perso nella caduta, ma che gli saranno restituiti nel suo corpo glorificato. Vede una volta sola la sorgente del Giordano aperta da Melchisedec e il letto del fiume a lui preventivamente designato. È Melchisedec che vede misurare l'ubicazione della piscina di Betesda, nonché le vie e i cammini che seguirono i profeti nell'annunciare il Messia, e sui quali egli stesso, per compiere questa figura, dovette perfezionare la sua santa carriera di predicatore. Melchisedec separa e guida le famiglie e le razze dei popoli, pone in Sion la pietra su cui poi sarà edificato il santuario di Dio. Pianta nel Giordano come semi le pietre che sosterranno l'arca dell'Alleanza quando il popolo di Dio riprendono possesso dell'eredità dei loro padri e che, dopo un lungo oblio, emergono nuovamente dalle onde del Giordano, affinché colui rappresentato nell'arca dell'Alleanza. Il figlio di Maria, possa ricevere su di loro il battesimo. Infine, così come Anna Caterina vede tutti gli avvenimenti della vita esteriore di Noè, Enoch, Abramo e dei patriarchi, Anche lei riconosce il significato figurato di ciascuna delle loro azioni e percepisce i legami interiori della grazia e dei suoi misteriosi. 29. Influssi viventi ed eterno nodo con cui uomini, generazioni ed epoche sono legate tra loro e al punto centrale di tutti i tempi, e lo pone davanti agli occhi, in visioni piene di significato profondo sulla benedizione dei patriarchi, l'arca dell'Alleanza e gli antenati di Maria. Giunge così al momento del compimento, e come prima vedeva il nuovo nel vecchio, ora vede il vecchio nel nuovo, tutta la vita dell'uomo Dio sulla terra, dal momento del Santissimo dall'Incarnazione al momento in cui ascende al cielo. Passa davanti ai suoi occhi nei quadri più completi, con tutto il teatro della sua carriera e delle sue operazioni, con tutte le persone che si sono trovate in intima relazione con il Signore. Vede il Signore nei frutti dei suoi infiniti meriti, lo vede quindi come il capo dell'umanità rigenerata in Lui, cioè del suo corpo mistico, la Chiesa, e lo vede in tutta la sua gerarchia, in tutte le sue parti e in tutti i suoi gradi, senza essere limitato né dal tempo né dallo spazio. Poche in Gesù Cristo che ne è il capo, le sono aperte le schiere della Chiesa trionfante, si diletta in spirito di partecipare alle sue feste, secondo l'ordine dell'anno ecclesiastico. E vi riceve consolazioni che aiutano a sopportare la fatica del proprio viaggio sulla Terra. In Lui si aprono davanti a Lui anche le fila della Chiesa sofferente, e attraversandole non solo guarda, ma consola, assiste, libera e libera. In Lui, infine, le sono presenti tutti i periodi della Chiesa, la vita di tutti i suoi santi e l'azione da essi esercitata, dal tempo degli Apostoli fino al momento in cui la vive, e, simile ad un'ape, raccoglie i frutti benedetti dei loro meriti per ottenere da essi ciò che rafforzerà e solleverà tutti i bisognosi del suo tempo. 9 Tutte queste visioni hanno il carattere storico più rigoroso, non sono riflessioni sugli eventi, sono il riflesso immediato e completo dei fatti stessi, che si presentano al chiaroveggente come l'immagine allo specchio, 1. Questo è ciò che conferisce alle visioni di Anna Caterina una marcata superiorità rispetto alle visioni di Maria Diagreda, come sono registrate nel libro Un tempo così famoso della mistica città di Dio. Quanto queste due persone si somigliano per quanto riguarda la santità della vita, tanta è la differenza che esiste nelle loro predisposizioni naturali e di conseguenza nel modo in cui percepiscono la luce dall'alto e utilizzano il dono della contemplazione che hanno ricevuto. La venerabile Maria Diagreda, favorita fin dalla giovinezza, come Anna Caterina, da illuminazioni divine, è per natura uno spirito speculativo, virile, che è molto semplice vedere e procedere alla maniera dei teologi e 30. Servirsi, senza averne bisogno, per così dire, a cercarli, tra tutti i termini e tutte le sottigliezze della scuola. È solo dopo una lunga preparazione e dopo aver a lungo esercitato le proprie facoltà contemplative su tutti i misteri della fede e della vita spirituale e che si arriva a tracciare le sue visioni. Nota 1. Alban Stoltz si esprime così nel racconto del suo soggiorno a Gerusalemme. Mentre facevamo la Via Crucis, padre Wolfgang ci raccontò che viveva a Gerusalemme da sei anni e che aveva dei santi po' nell'oggetto dei suoi studi. In questa occasione, aveva consultato il noto libro di Anne Catherine Merrick, The Sorrowful Passion, e non aveva ancora trovato nulla che contraddicesse la reale topografia della città santa. Aggiungo che il defunto dottor Hug, il quale, come tutti sanno, non estese il campo della fede oltre il necessario, disse un giorno in una delle sue lezioni, è strano che la monaca di Dulmen descriva con tanta verità e accuratezza i luoghi testimoni della passione di Cristo. Le sue parole concordano perfettamente con le descrizioni fornite da Flavio Giuseppe. Visita a Sem, Cam e Jafet di Alban Stoltz. Ma nella stessa contemplazione una mente così allenata e come armata ex novo non può comportarsi in maniera puramente passiva, afferra l'oggetto, non per guardarlo, ma per scrutarne la verità e la profondità. Coglierne l'immediata connessione con il proprio modo dell'essere e trarne ogni beneficio possibile per sé e per gli altri. Nell'abbondante luce di cui è favorita, Maria da Greda penetra nei misteri contemplati e l'intelligenza che ne ha è profonda e chiara quanto la contemplazione stessa. Ma la meditazione non cessa di essere meditazione e non può chiamarsi visione se non perché della luce soprannaturale nella quale i misteri gli si manifestano. Le sue visioni non sono quindi intuizioni di fatti o avvenimenti in tavole strettamente storiche, ma sono piuttosto la percezione di un soggetto di meditazione scelto da lei stessa nella luce superiore infusa. Ben diverso è per Anne Catherine che, senza scelta, senza desiderio, senza agire ma limitandosi a ricevere, vede le immagini che le vengono presentate, a volte le accoglie con gioiosa adesione. A volte si sforza in vano di sfuggirle quando il dolore provocato da ciò vede sembra oltre le sue forze. Lei è, per tutta la sua vita, la contadina semplice, analfabeta, del tutto incapace di riflessione, che non va mai oltre ciò che è immediatamente contemplato, che vive, soffre e agisce nella contemplazione, tanto che la pellegrina, poco prima di morire. Quando non può rendersi conto di un insegnamento del Salvatore, dice con Gemity, non ho mai visto realizzarsi in lei una scienza particolare derivante dagli insegnamenti aveva sentito. 31. Ma solo un ascesi pratica sempre simile a se stessa nei suoi tratti generali. La vita della sua anima è magicamente attiva e passiva senza ragionamento non è necessaria alcuna idea che ne derivi. Ecco perché nelle sue visioni Anne Catherine si comporta in maniera puramente passiva, non le comprende quando non le vengono spiegate dalla sua guida spirituale o dal suo divino fidanzato. Ecco perché tuttora tutto ciò che racconta delle sue visioni è contraddistinto da con una semplicità ammirevole e con una chiarezza che rende quasi le cose toccabili, sebbene vi sia allo stesso tempo una profondità misteriosa che ovunque fa dire al lettore. Lì non c'è niente di inventato, niente che sia di invenzione umana. Da nessuna parte egli incontra nemmeno l'ombra di un'applicazione ornata di riflessioni morali, ciò che trova sempre davanti a lui è la forza irresistibile di una verità semplicissima. Che nel suo carattere rigorosamente storico non può suscitare in nessuno la tentazione di cucirla e quello per amplificare e moralizzare. Ben diverso è il caso delle visioni della venerabile Maria Diagreda. Essendo prodotti con l'aiuto dell'attività umana, potrebbero più facilmente dar luogo ad uno zelo non illuminato che non si fa scrupolo di stravolgerli con insipide aggiunte e cambiamenti arbitrari, come è avvenuto in modo non troppo deplorevole nell'urbe di Dio. 1. Nota 1 Goer dice a questo proposito, l'estasi non poteva preservarla dal falso gusto del suo tempo. Il cattivo stile italiano che cominciava a regnare nelle chiese si era diffuso oltre Alpe come un morbo contagioso e la Spagna ne era stata colpita come altri paesi. Trovò ingresso anche nel libro di Maria Diagreda. L'eleganza inamidata, il gonfiore e la falsa enfasi troppo spesso lo sminuiscono e le lunghe morali che compaiono alla fine di ogni capitolo lo rendono ancora più verboso. Mystic, t, 2, pagina 352. In nessun luogo la differenza tra i due contemplativi colpisce più vividamente che in ciò che dicono Maria Diagreda e Anne Catherine sul primo articolo del simbolo. Fu nel suo quinto anno che Anne Catherine ebbe la sua prima visione della creazione del mondo, del paradiso terrestre e dei nostri progenitori, contemplò questi dipinti profondamente significativi con tutta la semplicità di una bambina, e nel suo quarantottesimo anno. Dopo averli rivisti, li raccontò assolutamente come avrebbe fatto nella sua infanzia, semplicemente riferendo ciò che aveva visto, senza aggiungere alcuna riflessione e senza apparire minimamente a voler dare spiegazioni su tali misteri di difficile comprensione. Tatt'altra cosa è Maria Diagreda, che non vede il quadro storico, ma chissà quali controversie teologiche occupavano gli animi del suo tempo e in quanti modi la speculazione tentava di risolverla. 32. Questione se il figlio di Dio sarebbe diventato uomo quando Adamo non aveva peccato. Lei risponde a questa domanda in modo così luminoso e discute tutti i punti fondamentali con tale profondità che il lettore si sente fortemente portato a credere che la risposta gli sia arrivata per illuminazione soprannaturale. Ma anche dove non dà decisioni teologiche e dove si limita a raccontare fatti come Anne Catherine, quest'ultima ha il vantaggio di una visione puramente storica e quindi di piena verità storica. È ciò che il lettore potrà vedere spiegato con sorprendente chiarezza nel seguente estratto del Diario del Pellegrino. Al resoconto della morte di San Giovanni Battista fatto da Anna Caterina, datato 12 gennaio 1823, obiettò che Maria da Greda aveva raccontato la cosa diversamente. Dice infatti che Rodia de Prima fece frustare e torturare San Giovanni tre volte. Gesù e Maria li apparvero e lo guarirono, che fu messo ai ceppi e presto sarebbe morto di fame se Gesù e Maria non lo avessero nutrito, che inoltre, durante la sua esecuzione, le apparvero seguiti da un'innumerevole schiera di angeli. E che Maria prese tra le mani la testa del precursore. Ora, ecco cosa ha risposto Anna e Caterina a questo. Spesso ho sentito cose di questo genere che sono completamente fraintese, perché in molti le visioni non sono storiche e non rappresentano cose come furono realmente passate ma sono meditazioni. È sbagliato prenderli per l'immagine della realtà, cosa che non sono, anche se del resto sono vere in quanto le visioni non sono frequenti e non formano una serie successiva, tutte le cose sembrano mescolate e legate tra loro. Altrimenti non abbracceremmo tutto ciò che l'insieme contiene. Se, per esempio, dovessimo vedere che un uomo che sta per essere giustiziato prega in questi termini, Signore, affido la mia testa nelle Tue mani, e inoltre che Dio ascolta questa preghiera. Può facilmente accadere che l'uomo decapitato venga visto mettere la testa nelle mani del Signore che gli sta accanto, il che del resto è vero in senso spirituale, anche se umanamente parlando, la testa cade a terra agli occhi di tutti coloro presente. Così, per la venerabile Maria di Agreda, la rabbia di Erodiade potrebbe essere stata rappresentata dalle catene e dai ceppi, e dagli atti vergognosi e dai peccati commessi nel castello che Giovanni provò dolorosamente con le flagellazioni e le torture. E la testa tra le mani di Maria. Potrebbe significare che nel momento della sua morte, prima di nascere alla vita eterna, Giovanni si ricordava ancora di colei nel cui grembo aveva salutato e annunciato Gesù, prima della sua nascita nel giorno possiamo vedere anche tutti i pensieri e le preghiere di un uomo. Rappresentate da immagini in cui non sempre 33 Dobbiamo vedere le cose realmente accadute. Queste sono meditazioni e differiscono a seconda del modo di essere e dei bisogni contemplativi delle persone. Se, come abbiamo già notato, possiamo ammettere con certezza che la città di Dio non è nelle nostre mani nella sua forma primitiva, perfettamente corrispondente alla contemplazione di Maria Diagreda, ma alterata in mille modi dall'aggiunta del prolisso riflessi, il se. Del resto, diversi lettori delle visioni qui presentate sentono la tentazione di stabilire un confronto più stretto tra loro e la città di Dio. È il caso di porre davanti ai loro occhi, una visione allegorica, di significato molto profondo nella sua semplicità. Che Anne Catherine aveva questo oggetto? Il 25 luglio 1822, Anna Caterina vide molte cose che toccavano la vita dell'Apostolo San Giacomo, e in particolare il suo soggiorno in Spagna. Ma poche aveva dimenticato i dettagli di un'apparizione della Madre di Dio a Saragozza, il pellegrino le lesse nel pomeriggio del 24 luglio il racconto di questa apparizione, con la circostanza dell'immagine miracolosa portata da un angelo. Come quella il racconto si trova nella città di Dio. Ora Anne Catherine non riusciva a capire come Marida Greda, che si supponeva avesse visto la cosa in modo così dettagliato, non descrivesse ancora nulla e si limitasse a pronunciare frasi pure. Non so cosa sia, ha detto, ma non ho mai sentito né Gesù né Maria parlare così. Maria è di una semplicità che nulla può trasmettere, tutto il suo essere è come un filo di seta bianca, di infinito delicatezza non sento alcuna unzione in queste parole né in tutto quello che ho letto, c'è solo rumore e ornamenti elaborati. Mi sembra di vedere una bella signora con un ampio ventaglio da toilette e il giorno dopo raccontò in frammenti la seguente visione senza essere minimamente cosciente del suo collegamento con le visioni dei giorni precedenti. Era impossibile, disse, spiegare a cosa potesse riferirsi. Alla fine abbiamo saputo che aveva pensato al miracolo di Saragosa, e voleva rivederlo, ma era rimasta sorpresa nel vedere tutto questo. In un altro modo, molto più naturale e chiaro. Solo che non sapeva cosa fosse quella persona così grande che le era stata presentata dalla sua guida nella scena successiva che quella notte aveva preso il posto dei viaggi che era solita fare per aiuto, dopo le visioni quotidiane della vita di Gesù. Perché era andata come al solito per i sentieri che conducevano ai paesi dove aveva qualcosa da vedere. Così ha raccontato quanto segue. Oggi ho avuto una storia curiosa di un bambino con un occhio solo. Ho seguito col mio autista la strada che da qui conduce alla Spagna attraverso la Francia e, nei pressi della Spagna, in un luogo sulla riva del mare, dove dovevamo imbarcarci, abbiamo incontrato due strani personaggi, un 34 Vecchio dall'aspetto serio che era veramente eccellente e che possedeva tutto in sé, e una donna grande, singolarmente pomposa, prolissa, circospetta e cerimoniosa. Indossava un vestito ridicolmente ampio, che da dietro sembrava una città vecchia. Perciò era ricoperta di cordoni con gorgere e passamanerie di ogni genere, e non finiva mai quello che aveva da fare e da dire. Questi due personaggi avevano vicino a loro uno splendido bambino che giaceva sotto un cespuglio in riva al mare. In verità il bambino non apparteneva a loro, l'avevano preso, ritrovato o rubato, finalmente l'avevano sequestrato e volevano onorarlo. O mostrarlo per soldi. Non so bene di cosa si trattasse, ma quello che proponevano di farne, soprattutto la donna, non rientrava nelle regole. Vidi anche in una visione che era l'omologo dell'altra, che questa grande donna nuda, devota e molto ostinata nelle sue idee, portando il bambino che soffocava sotto le sue immense vesti, voleva entrare in chiesa attraverso un passaggio molto stretto. Ma non lo superò e restò ancora incapace di avanzare, nello stretto passaggio, fu costretta ad uscire, poi riprovò ad entrare con nuova ostinazione, ma senza voler sopprimere i suoi vani aggiustamenti. Il bambino, quando lo incontrai, aveva, credo, cinque settimane, mi l'ho portato con me, perché lo sapevo già, e l'ho messo nel grembiule. Non voleva lasciarmi, gli ho dato da mangiare e questa donna è stata costretta ad andarsene. Non so più come sia successo, ma il buon vecchio mi è sempre rimasto vicino. Questo bambino era quello di un re celeste e di un'imperatrice terrena, non conosco più questa storia. La cosa singolare è che stando con me il bambino è cresciuto molto velocemente, è stato subito in grado di parlare e camminare, nonostante avesse solo cinque mesi. In questo viaggio in Spagna c'erano sempre delle persone vicino a me, erano San Giacomo e i suoi discepoli. Ho visto in lontananza diverse persone del tempo presente, quando passavamo da qualche parte, venivano diversi santi che erano vissuti in quel luogo, o i rimasero sorpresi alla vista del bambino che stava ovunque e insegnava, che dava ogni tipo di istruzione e mi stava sempre vicino. Ma ciò che sorprendeva di questo bambino era che i suoi occhi erano chiusi, e aveva sulla fronte un occhio come un sole, come l'occhio di Dio, che è che viaggiando con me per tutta la Spagna, passando per i luoghi dove era andato San Giacomo, mi mostrò tutto e mi spiegò tutto. Ho visto anche una seconda volta la scena dell'apparizione di Maria a San Giacomo, a Saragozza, e tutto è avvenuto con molta naturalezza. Se ora cerchiamo di scoprire il significato di questa visione, possiamo vedere Marsiglia in questo luogo in riva al mare, dove Anne Cetrin si imbarca per la Spagna. Fu lì che apparve la prima traduzione della Ciudad de Dios, con il titolo, La 35 Città mistica di Dio I due strani personaggi che incontra simboleggiano la duplice disposizione con cui furono accolte le visioni della venerabile Maria di Agreda. L'uomo anziano che ha tutto in sé è la vera semplicità che accoglie con umile gratitudine questo dono prezioso della grazia senza permettersi di aggiungere abbellimenti di suo. E' con questa semplicità che la venerabile Maria da Greda aveva ricevuto le sue visioni, e le aveva comunicate ad altri perché obbedissero all'ordine di Dio, ma questi, non potendo tollerare la semplicità, prendono le visioni soggette ad alterazioni che in tale semplicità sono indicate in modo pittoresco dal simbolo della donna con l'abito da cesto, come veniva indossato in Spagna nel XVII secolo. Ecco perché questo falso zelo che, sacrificandosi al cattivo gusto dei tempi, ha snaturato la città di Dio e ne ha fatto un pomo di discordia teologica, non è riuscito a ottenerle l'approvazione della Chiesa. Il dono gratuito della profezia, quale Maria da Greda ha ricevuto in tutta la sua purezza, è rappresentato dal simbolo del bambino nato dalle nozze di Gesù Cristo Re Celeste con la sua sposa imperatrice della Terra, cioè il Chiesa. Anne Catherine lo incontra sotto un cespuglio in riva al mare, perché la donna dall'ampio vestito lo trattava come un trovatello e lo trattava indegnamente, immaginandosi di fare un buon lavoro. Questo figlio della profezia presso la venerabile Maria da Greda ha solo cinque settimane e non sa ancora parlare. Con Anne Catherine cresce quattro volte ed è in grado di parlare e camminare. È simbolo non solo della differenza di grado della grazia gratuita data ad entrambi, ma anche del suo carattere intimo. La stessa Maria da Greda parla al posto del bambino profetico che con lei non ha ancora l'uso della parola, perché, ricevendo nella contemplazione la luce della scienza infusa, lascia che la propria attività prevalga mentre con Anna Caterina il bambino acquisisce rapidamente l'uso della parola si parla per la sua bocca, perché si limita a ricevere, e la sua stessa attività. È passiva. Nutre il bambino perché usa il dono della grazia con fedeltà e semplicità, e il vecchio le resta sempre vicino, perché il pellegrino riproduce le visioni con la stessa fedeltà e semplicità con cui Anna Caterina gli le comunica. Anna Caterina continua così il suo racconto. Quando, dovunque andassimo, arrivavano dall'alto intere schiere di santi che avevano anche avuto visioni, tutti rimanevano stupiti dal bambino, e il bambino me li indicava, facendo sapere come ciascuno di loro aveva visto e profetizzato. E li ho visto quanta diversità e varietà ci sono nei processi. E questo è stato fatto in tutta la terra in tutti i tempi e dai profeti dell'Antico Testamento risalendo ad Adamo. Era incredibilmente multiplo e vario, ma tuttavia seguendo un ordine regolare, affinché potessi comprendere il tutto. Ricordo ancora. 36 Come la madre di Samuele pregò davanti all'arca che voleva mandarla via, perché il suo volto era infuocato dall'ardore del suo desiderio, e lui pensava era ubriaca. Ma un raggio venne dall'arca e venne su di lei come un bambino piccolo. E li le disse che la sua preghiera era stata esaudita e che avrebbe avuto un figlio la Benedetta. Ho visto anche infinite cose su tutti i profeti e tutti i tipi di visioni e profezie. Ma tutti si meravigliavano alla vista del bambino, come se nessuno lo avesse ancora posseduto come me. Nota 1 Presumibilmente il vaso contenente il santo mistero dell'arca dell'Alleanza, di cui molti dettagli verranno comunicati nelle visioni relative alla benedizione dei patriarchi e all'arca dell'Alleanza. Ho visto anche la profezia che emana dall'impero delle tenebre e ciò che appartiene all'ordine naturale, essendo questa strettamente legata all'altra. Ho visto questi vari regni come grandi palle rotonde di colore scuro, gli uni più oscuri, gli altri più chiare, e simili alle sfere terrestri, tutte le cose che generalmente vediamo come in un unico insieme. Le vediamo come globi terrestri. Vidi gli spiriti nel centro e vidi certi influssi passare da uno di questi globi negli altri e attraverso gli altri ho visto i sonnambuli magnetici, o in una di queste sfere oscure, ho influenzato da essa. Perché la maggior parte delle volte ho visto uno spirito oscuro prima che il magnetizzatore proveniente da questi regni oscuri entrasse in coloro che parlano nei sogni e prenderne possesso, 2. Nota 2 Nell'agosto del 1821, un medico che era avvolto dai magici legami di una sonnambula venne a Dulmen, con l'idea di trovare una somiglianza tra lei e Anne Catherine. Ma la suora respingeva come chimeriche illusorie tutte le comunicazioni del sonnambulo. Il medico non si lasciava persuadere, sfuggiva sempre ad Anne Catherine come un uomo stregato. Poi ebbe una visione che colpì il sonnambulo e vide che né lei né il dottore avevano cattive intenzioni, ma che Satana li stava allontanando entrambi dalla retta via attraverso il prestigio del sonnambulismo. Vide che il dottore stava filando un filo che usciva dal sonnambulo, che lei vi fece un nodo e che il dottore lo ingoiò. Vide che c'era una nube oscura nel suo interno, che nulla in lui cresceva e che tutto rimaneva senza movimento, che però spesso gli veniva in mente che aveva qualcosa da vomitare. Ho visto che la loro divinazione era, nella maggior parte dei casi, di origine terrena, e che c'era qualcosa di indecente e pericoloso, ma a vari livelli. Ho visto monaci e monache visionari ai quali giungevano raggi da queste sfere oscure. Ce n'erano diversi in Spagna. Anche tra coloro che vedevano cose di ordine spirituale, perfino. 37. Rappresentazioni della passione e della vita del Cristo. C'erano tra coloro che maceravano e si mortificavano molto, eppure forze provenienti dalle regioni inferiori incrociavano le loro apparizioni e alteravano il loro carattere con influssi appartenenti alle sfere diaboliche o naturali, con le quali si trovavano in qualche modo a rapporto per le loro debolezze. Anche il carattere personale dei loro superiori eccesiastici e gli ambiti nella cui giurisdizione essi esercitavano un'azione. Ne ho visti alcuni interamente dominati da poteri malvagi. Ho visto tutti questi rapporti con gli spiriti e i demoni anche tra gli antichi pagani e tra i mori e i selvaggi. Se potessi ripetere tutto quello che ho visto, ne faremmo un grande libro. Ho visto anche le mode ben diverse dall'intuizione. Alcuni si trovavano improvvisamente circondati dalle figure, le tracciavano in forma abbreviata e rimanevano sempre davanti a loro. Altri si commuovevano nel profondo dell'animo, parlavano a lungo e scrivevano grandi sermoni. Altri si sentivano internamente consolati e ricevevano ogni sorta di immagini allegoriche miste a scene storiche, e quando le raccontavano, non sapevano distinguere. Ma non ho visto nessuno che avesse visto le scene giorno per giorno e semplicemente come le avevano viste loro. Accaduto. Penso che ieri sera devo aver camminato fino in fondo. Terra con il bambino. Quando arrivavo in un luogo dove potevo assistere i malati o i moribondi, o rendere qualche altro servizio, lasciavo il bambino e facevo il mio lavoro, perché la mia guida era sempre lì. Ma vedi in lontananza attorno al bambino e anche intorno a me tante persone del mio tempo e di mia conoscenza che rimanevano stupite. Questi potrebbero essere coloro che in futuro acquisiranno una conoscenza più approfondita di queste cose. Mi sono finalmente svegliato dopo queste foto, e ho visto il bambino che giaceva vicino a me, cosa che mi ha spaventato. Mi sono addormentato di nuovo, e poi mi sono ritrovato molto piccolo a Flamske nella nostra casa. Mentre seguivo il mio percorso dietro la mandria nella brughiera, ho trovato il bambino in un cespuglio, ancora molto piccolo. Sono corso a prendere della farinata e gli ho dato da mangiare. Poi ho visto tutta una serie di quadri, comprendenti tutta la mia vita fino al momento presente. Ho visto arrivare il bambino. Ho avuto la prova completa dei miei destini. delle mie consolazioni e anche di tutti i dolori che ho dovuto sopportare ed ero completamente distrutta dalla sofferenza ho dovuto sottopormi nuovamente anche alle due indagini e l'ultimo con tutti i suoi aspetti terribili. Ho visto anche il bambino a Roma dove mostrava ogni sorta di cose. Ho visto anche il bambino insegnare a Munster. In un altro momento, dove si trovava il castello, molte cose erano scomparse della vita. Mi 38 Passarono davanti alcuni signori dell'epoca attuale, erano vecchi e infelici, e parlavano dei cambiamenti che trovavano scomodi. Ho visto nel volto di un bambino il vescovo che doveva cominciare a rimettere le cose a posto. Forse è ancora un bambino, non era di campagna. Quando queste ultime cose avranno luogo, si